Allora, lei indossa il primo completo, il primo outfit, è una felpa leggera, gazzata, in cotone, morbida, molto morbida, comoda in tutte le strutture, il braccio, il pantalone in felpa con le ripresine in forno un po' che chiude un pochino. Allora, lei indossa il bianco e nero come colore, però è disponibile anche nel fango e bianco, che è questo, grazie Lisa, e anche nel bianco e nero, che ecco, il bianco e nero ovviamente è carino così come combinamento, mentre il fango sta bene col bianco. Ok, questo è disponibile in tre taglie. Allora, taglia prima, seno, 124 cm, fianchi 136, disponibile in colore fango. Taglia 2, seno 130, fianchi 146, disponibile in bianco, nero, fango. Taglia 3, seno 138, fianchi 154. Colore bianco e nero, euro 89. Ok, 89 euro per questa felpina. In fondo, vedete, ha delle punte, ha uno spacco dietro e davanti è un pochino più corta, con la scritta. No, è morbida, carina. Molto morbida, è una cosa pratica.